In totale sono 10 le persone fermate ieri dalla polizia di Bologna in flagranza di reato. L'operazione Evergreen infatti ha sgominato una banda dedita ai furti e ai danni di autotrasportatori in sosta al nord Italia. Le indagini sono partite proprio nel mese di ottobre scorso dopo un furto avvenuto in un'area di servizio di Sillaro Ovest. Ieri notte l'ultimo colpo, questa volta i danni di un tir in sosta nell'area di servizio Nure Nord della 21, da cui sono stati sottratti 65 pneumatici per autocarri e per un valore di oltre 50.000 euro. La banda aveva base logistica ad Andria, come hanno accertato gli inquirenti, che hanno anche fermato 8 andriesi, un cerignolano ed un tranese. Il gruppo infatti, per evitare di essere individuato, non soggiornava mai in strutture alberghiere, preferendo sobbarcarsi il viaggio di andate e ritorno tra Andria e le province di Bologna, Alessandria Pavia e Piacenza, dove imperversavano almeno da due mesi. I malviventi, in poco meno di tre ore, sono riusciti proprio a sottrarre i 65 pneumatici, senza che l'autista si accorgesse di nulla. Ultimato il furto, i malviventi si sono diretti verso sud, immettendosi nell'A1. L'operazione della polizia è scattata in piena notte nella zona di Modena, dove una prima macchina è stata fatta entrare nell'area di servizio Secchia Ovest. Una seconda auto, invece, è stata costretta a fermarsi all'interno dell'area di parcheggio Castelfranco e anche qui gli occupanti sono stati immediatamente fermati. Individuato anche poi un autocarro pedinato a distanza, l'autista ha proseguito la marcia fino ad un'area di servizio di Ancona, dove si è fermato per riposare. Ma i poliziotti di Bologna sono intervenuti, arrestandolo e recuperando tutta la rifurtiva.